Per combatterla si cerca di ridurre le spese, almeno quelle non indispensabili, si cerca di contenere al massimo le spese non necessarie, per cui si spende solo il giusto per quello che serve. Ottimizzo, ottimizzo quelle che sono le mie necessità, riduco e cerco di non sprecare, quindi riduco un po' le necessità, diciamo che vado alle necessità cercando di tralasciare per il momento, in attesa che le cose migliorino, le spese inutili. Cerco di limitare le uscite, cerco di risparmiare per far quadrare i conti. E cosa chiede il governo? Chiedo al governo che si faccia qualcosa di concreto per le famiglie. Grazie.